Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Lords of the Fallen, stiamo per cominciare il New Game Plus 4 Voglio fare un episodio offline per introdurvi alla build che useremo in questo playthrough perché ci ho lavorato un po' E oltretutto è migliorabile con un anello che potremo prendere a metà di questo percorso Vi farò vedere anche il percorso che andremo a fare perché in questo New Game Plus 4 sarà un po' particolare Perché cercheremo di prendere altri due trofei almeno Andremo a fare il radial ending ovviamente I due obiettivi principali saranno quello lì di finire la questline del tipo Del paladino oscuro, quello qua sotto Che richiederà un po' di ping pong, vi ricordo che il New Game Plus 4 sarà assolutamente senza alcuna forma di vestigi Quindi faremo un po' di ping pong Ecco l'esattore, non mi veniva il nome Ma in realtà andremo a fare anche una parte della quest di Sofia Cioè della Regina Sofia e una parte di quest di Kuka Jin Perché c'è la loro versione boss che non ho mai affrontato Quindi questo mi richiederà di fare un altro paio di ping pong aggiuntivi Oltretutto così potrò prendere la seconda spot di Kuka Jin che è buona in goal wield E nella quest del Tortured Prisoner A un certo punto posso comprare un altro anello per la rigenerazione del mana Così posso averne due ed è utile su svariate build Vediamo un attimo proprio la build in generale, quello che andrò effettivamente a utilizzare Perché comunque di valore, ne andiamo effettivamente a parlare un attimo Allora ovviamente la build che andiamo a giocare è Radiante Questo l'avevo già detto, volevo fare la landing radiante con la build radiante Mi sembrava totalmente a tema Andremo a utilizzare principalmente tre armi, due scudi E ovviamente il nostro catalyst, poi andremo a vedere perché Nostra arma principale sarà chiaramente la spada di pieta È l'arma Radiante per eccellenza, chiaramente Che ha nelle sue rune tre per di smite build up Ho visto che ragazzi in New Game Plus avere gli estrusi normali è molto più importante E avere più danno, semplicemente Gli estrusi normali scalano con i nemici Il danno no, non così tanto Quindi ho deciso di investire di più in smite build up Funziona meglio Ho visto già da New Game, quando ho iniziato a usare di più gli estrusi normali Ho visto che le cose funzionavano molto molto meglio Di conseguenza appunto, bene così, bene così Quello è anche bleed Andremo a utilizzare in realtà tra le varie magie Per posso incantare con bleed e oli qualsiasi cosa Andremo anche a utilizzare la spada di Alien Questa anche in realtà è segretamente un'arma puramente Radiante Fa anche Wither Damage ma in realtà scala solo esclusivamente Radiant Questa ha due rune che aumentano l'attributo Radiant E riducono quello Inferno ma Inferno non scala questa arma quindi non importa E la runa quella lì Inferno invece è incrementata in elementare generico Questo ci può fare sia più Wither Damage che Wither Damage Chiaramente questa spada è più comoda nelle aree di gioco Dove i nemici sono un po' più resistenti a oli e basta Quindi chiaramente andremo a sbucciarla così Ma in realtà non è solamente questo il punto Ma perché posso anche fare dual wielding di queste due spade Come sapete questa qua è la classica build doppia spada laser E per chi non lo sapesse c'è una mossa molto simpatica speciale Oltretutto ho scoperto anch'io di recente che non è che hanno solo un'arma Cioè ogni arma ha la sua weapon art ma il dual wield di questa spada ha una weapon art speciale Che è essenzialmente questo colpo qui Che consuma come vedete soulfly charges ma fa un parecchio danno Che posso effettivamente andare a utilizzare come voglio Per quanto riguarda poi altre cose che andremo a utilizzare Ci sono sempre gli scudi, ne ho sempre due Abbiamo il light repair shield, 3x di altre regenerations Ci può sempre tornare utile O in alternativa andiamo a utilizzare il sanctified antrash shield Questo qui ci dà 3x di mana regenerations Ho scoperto che questa runa è new game limited Quindi in realtà devo recuperarla essenzialmente nelle aree new game plus più volte Mi devo ricordare quando passo in quest'area di gioco Di riprenderla perché non si farma Questa qui si droppa solo per new game cycle E serve il 6x Come sapete di ogni runa per raggiungere il cap Quindi appunto questa cosa qua effettivamente è da fare Poi per quanto riguarda le magie In realtà ne andremo a utilizzare diverse Le switcheremo in questo fight Come vedete ci sono queste 3 spell difensive Qual è la cosa particolare è che in realtà queste qui Il modo in cui funzionano è che si attivano e consumano mana nel tempo Ok? Tutte e tre funzionano così Consumano mana nel tempo fino a quando non le azzerate Oppure io posso ricliccarle per disattivarle a mano The thing is che con 3 rune di rigenerazione mana E l'anello di rigenerazione mana Vado solo in calo pochissimo mana in realtà Per adesso sto utilizzando come secondo anello Quello lì che ti fa ricaricare mana quando faccio strike su un ko Cioè quando colpisco un nemico Idealmente avrei un secondo mana stone ring Con il secondo mana stone ring vuol dire che io posso tenere Questi 3 buff attivi per sempre E questo è molto più forte di dare altre generations Perché questo mi fa fare danno nel tempo ad aria Mi aumenta le difese e mi cura Questo è veramente il miglior setup possibile Però come vedete adesso ancora un pochettino nel tempo La mana cala e soprattutto Me lo rende meno sostenibile se inizio a usare anche altre magie Quindi per questo mi servono due per Due per del mana stone ring Che però si prende ripeto abbastanza presto nel gioco Semplicemente non ho fatto il passaggio la volta scorsa Per prenderlo a questo attuale new game Che è un po' un peccato Però sti cazzo insomma Troveremo il modo E come ho mulito sto utilizzando l'Hallowed Trypitch Questo qui lo sboccherò quando lo sbloccherò Perché non l'ho mai fatto Effettivamente il talismano quello che ti aumenta è danni sacri Punto Preferisco risolvere questo Questo qua ti fa fare più danno alla postura dei nemici Quando infliggiamo danno sacro Perché dico che lo sboccherò? Perché alcuni nemici hanno postura infinita E quindi ovviamente questo diventa inutile Poi Quindi potuto rimagino utilizzeremo dump Il setup principale comunque sarà questo qui Sarà ovviamente il dardo Fammi disattivare che cala il frame rate Quando attivo tutte queste insieme Comunque sarà il dardino Questo singolo Ok Ovviamente l'infusione dell'arma Io penso che userò principalmente build Bleed appunto come vi facevo accenno prima Posso potenzialmente usare anche oli Questo qui ovviamente Dipenderà anche dal nemico Dipenderà da un sacco di cose E poi le switcherò altre Per esempio Non so se serviranno sempre A avere tutte e tre i buff attivi Sempre Non penso in realtà Radiant ha tante spell buone E per esempio La zona quella lì Che costa 120 mana E danneggia Che è chiaramente molto forte Per poi fare alcuno Un buon controllo della zona Potenzialmente parlando Anche in questa fight Anche in questo build Cercherò di stare in light load Perché Lo pregredisco Anche dall'ulta precedente Specialmente se Se si rush un po' In realtà è il bene Perché appunto In realtà È Comunque abbastanza Pesantuccio Tutta questa Tutta questa build Tra con le coverse Eccetera 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 Quindi Per adesso siamo messi così Allora La mia intenzione adesso È andare in new game più 1 Volevo fare E provare Cioè in new game più Scusate in new game più 4 Volevo fare questo episodio Subito live Ma anche offline E Per Come posso dire Perché per provare a fare Il light reaper First try Non è detto che io ci riesca Perché lo buffano Come poche cose Nell'universo conosciuto L'avevo già visto Allo scorso New game plus Che Il light reaper È overpowered All'inizio Questa volta però Visto che non devo Per farlo per forza Cioè che posso effettivamente Farlo Per una volta Ci vorrei effettivamente Provare Quindi io direi che Abbiamo già Ciancischiato abbastanza Con tutta questa situazione E direi di imbarcarci Appunto nella nostra avventura Nel new game più 4 Aspetta in realtà In realtà non è proprio vero Perché preferirei andare A comprare prima Ce l'ho un po' di Un po' di rigore Un po' di rigore ce l'ho 1076 Non ce l'ho proprio un cazzo di rigore Andiamo a utilizzare Qualche teschietto Tanto che hanno tanti Non prega niente 6.600 Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 Andiamo a usare Mi compro Le vestigi Che non ce l'ho più Ho preso la nerda Cazzo ho preso i nerda Ho spregato Oh fuck Sa Non so che erano pure Ho preso qua in più Anche queste Perché c'è Le cose che si riposiziona Da solo Il cursore che si riposiziona Da solo L'altro In realtà Ci poteva sempre Rornauti E Non troverò Mi manca Possiamo Possiamo Parare ancora Vado a controllare Gli oggetti Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Vediamo come va Iniziamo il new game Più 4 Iniziamo il più che più 4 Yes 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 Ci sarà Ci sarà un sacco di ping pong Da fare su sto fledro Ma veramente tanti ping pong Più del Più del new game precedente Si manda riposte con Abbastanza facile Con questo Quest'anello È proprio voluto Certo Certo Sì, è quello che dico. Ho messo queste cose qua. Sarà una run simpatica. Farò un botto di riposte in realtà. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è un'ultima roba che non vi ho fatto vedere. Magari mettiamo un attimo in pausa l'ultima arma che avevo portato su e non vi ho fatto vedere. Che ci teniamo a far vedere. Sì, è vero. Allora, l'altra arma che volevo farvi vedere era questa polearm. Questa qua. Questa c'ha tre per sul posture damage. È buona se contro i nemici che subiscono danno fisico né Wither né quell'altro. Fa sia bleed che smite. Quindi sarà un'arma utile per le circostanze dove gli altri due sono meno efficaci. Tutto qua. Ok, posso anche ricominciare. Dietra sword. Ok. E... Non c'è niente di che no. Ah, devi sti... Porca d'ora c'era il per cinque. Che zesso mi ricordo... Non mica mi ricordavo che c'era il per cinque lì. Allora, ecco la strategia è uno, due, tre e si va. Allora, ecco la strategia è uno, due, tre e si va. E adesso cerchiamo di farlo. Lui ha veramente tantissima vita. Alla... Al primo encounter. Quindi vedremo. Dimmi the lamb. Come qui? Smite of doing the work. Vedete visto anche quanto differenza fa il... Come si dice? Il posture damage extra sul sacro. Oh no, l'ho disattivato per errore. Prima di tutto voglio vedere la cutscene. Perché ho detto che tutti quanti c'è tipo una cutscene speciale che fa il play quando lo batti per strike così. Sono proprio curioso. Sono proprio curioso. Dimmi the lamb. Dimmi the lamb. Tonto. Porca troia. Pazzato. Pazzato. Danni ne faccio con sta build, eh. Porca troia. Pazzato. P estate. Pazzato. Non so. Hè. Pazzato. Spike, don't fuck up now. Non fuck upiamo adesso. No, 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 no. Oh, l'ho ammazzato. Pazzo, ho lanciato tutto e so giocare di merda veramente. Cazzo in speciale? Ah, è l'iron wayfarer arriva. Cazzo in speciale? Però mi dà comunque l'Umbra al Parasite e tutto il resto. Ora posso togliere la mia Aure Super Saiyan. Mi dà anche la Remembrance subito? Sì. Eh, lo volevo fare almeno una volta il Letty Reaper al first try. Mazzara, ragazzi, sta build fa veramente parecchio danno. Non ho messo che l'ho fatta. Va bene, comunque questo qui era un mini episodio in realtà. La voglio chiudere qui. E volevo appunto farvi vedere questa cosa. Quindi facciamo un recapino alla fine. Giusto così, per divertimento personale. Adesso chiuderò qui la live. E la live, in realtà, l'episodio. Allora, sì, abbiamo fatto il Letty Reaper al first try. Io oltretutto in questa build in realtà non ho niente da livellare a livello di statistiche. Sono già comunque un character molto molto alto. Quindi farò salire Inferno anche se non serve a niente. Almeno mi sale il mana. Quindi abbiamo appunto la spada di pieta, una mano. Il calice con i nostri buff e le nostre spell. Abbiamo l'altra spada. Aspetta, dove è? Dove è? Abbiamo l'altra spada che adesso la refresh. Esatto. Con cui possiamo fare dual wield. Oppure possiamo usare la singola. Perché se lo usiamo dual wield ha anche l'attacco speciale. Poi abbiamo i nostri due scudi. Uno mi dà una massiccia quantità di health regeneration. L'altro di mana regeneration. Quindi questo è per HP. Mentre questo è per mana. Ovviamente sono tutti due scudi leggeri perché voglio tenere il peso leggero. E infine abbiamo la possibilità di giocarci la polyarm. Questa polyarm. Qui nello specifico. Che ovviamente come vedete ci mantiene a light. Ovviamente questa qui non ha niente di particolare. A parte il fatto che ha bleed e smite. E oltretutto fa danno fisico. Essenzialmente. Quindi se mi trovo nelle situazioni in cui mi serve. C'è anche un ottimo moveset a due mani. Che può tornare utile. Oltre che appunto ha un botto di range. Anche la weapon art è molto forte. E quindi niente ragazzi. Questo era per questo video. Questo video che poi diventerà appunto. L'inizio della prossima. Della prossima run. Questa sarà veramente simpatica. Se va tutta. Se va tutta così. Mazza raga. Light Reaper è uno dei mostri. Dei boss più difficili del gioco. Oltretutto il first encounter. C'ha tipo il doppio della vita. E li ho fatto il culo malissimo. Avendo giocato comunque male. Potrebbe darsi che questo sarà il primo stomp. Quindi se non vi volete perdere. Ovviamente quello che succederà. Ricordatevi di seguire live. Qui da Spec è tutto. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Bella.